Se tu non iscrivervi al mio canale, io vengo a casa tua e spacco tutta la tua ceramica! In questo nuovo video ci rilassiamo spaccando tutto il biscotto che troviamo a casa o di cose che non ci piacciono più o magari di cose rotte per creare la chamotte, che viene chiamata anche a volte grog o groleg. Che cos'è la chamotte? La chamotte è una polvere di ceramica che può avere varie granulometrie. E per che cosa la usiamo? La usiamo per esempio in un impasto molto plastico per dargli un po' di resistenza e quindi poterla usare per esempio per grandi oggetti magari a colombino o per delle sculture o magari per creare il nostro impasto racco. Infatti aggiungendo la chamotte a un impasto questo diventa più o meno semirefrattario. Come si ottiene la nostra chamotte fatta in casa? Di che cosa abbiamo bisogno? Allora sicuramente abbiamo bisogno di alcuni cocci poi abbiamo bisogno di un martello, una mazzetta abbastanza pesante poi abbiamo bisogno di un colino o diversi con varie maglie per ottenere chamotte di varie dimensioni poi abbiamo bisogno chiaramente di una superficie dura dove martellare i nostri cocci. In questo caso io sto utilizzando una pietra locale che si chiama pietra leccese ma potreste utilizzare qualsiasi superficie dura almeno quanto i cocci stessi. Adesso andiamo a vedere da più vicino come fare appunto la nostra chamotte quello che dobbiamo fare è iniziare a martellare. Quindi iniziamo a martellare i nostri cocci fino ad ottenere una polvere sottile come questa qui. Una volta che li abbiamo sminuzzati in pezzettini più piccoli dobbiamo continuare ancora a martellare fino a disintegrarli, fino a polverizzarli pian piano con tanta pazienza. Per non far volare tutti i pezzi di appunto di biscotto in giro possiamo anche coprirli con un telo e continuare a martellare in questo modo. Il metodo diciamo più facile che ho sperimentato è poi prendere un piccolo pezzettino e iniziare a martellare quel pezzettino lì fino a polverizzarlo senza battere su tutta la superficie ma un pezzettino alla volta. Allora una volta che abbiamo martellato la maggior parte dei nostri cocci o quando ci siamo stancati possiamo quindi riunirli tutti insieme e adesso andremo a filtrarli col nostro colino. Allora raccogliamoli dentro al colino poi con un pennello puliamo la superficie togliamo diciamo tutto ciò che è rimasto anche questo lo possiamo inserire nel colino il piccolo setaccio e iniziamo a setacciare ed ecco a voi la nostra chamotte della granulometria di questo del passino che abbiamo del colino che abbiamo utilizzato e quindi possiamo trasferirla diciamo in qualsiasi contenitore una volta che l'abbiamo filtrata possiamo ricominciare con i cocci rimanenti a sminuzzarli di più e ripetere l'operazione questa seconda volta è stata molto più facile perché i pezzettini erano già più piccolini e quindi è stato molto più veloce quindi rimetto nel colino e filtro ed ecco ottenuta la nostra chamotte quindi una volta che abbiamo creato la nostra chamotte andiamo a vedere come inglobarla nei nostri impasti ceramici quindi diciamo che adesso posso utilizzare vari metodi per inglobare la chamotte che abbiamo creato il nostro impasto potrei inserirla direttamente in questa qui che è praticamente polvere di argilla bianca ancora cruda quindi vado ad inserire la mia chamotte nella proporzione che desidero chiaramente questa è una quantità piccolina ma potrei replicarlo aumentando le quantità quindi che faccio mischio inizio a impastare con l'acqua ottenendo prima una sorta di barbottina e poi pian piano ottenendo un vero e proprio impasto vedete come per esempio nella ceramica nell'argilla bianca la chamotte rosa colora un po' con l'impasto quindi potrei decidere per esempio per un impasto bianco di creare una chamotte con dei cocci di argilla bianca guardate piano piano si addensa e quindi posso decidere se aggiungere argilla bianca per addensare l'impasto oppure poggiarlo su del gesso in modo che si ritiri naturalmente e quindi poi rimpastarlo a mano ecco vedete lo appoggio sul mio calco in gesso lo stendo un pochino e aspetto che il gesso faccia ritirare l'acqua e quindi poi andrò a impastarlo l'altro metodo che posso utilizzare invece è appunto inglobarlo direttamente nell'argilla e impastarlo a mano chiaramente poi le quantità varieranno da quello che vogliamo fare se vogliamo ottenere un impasto più o meno strutturato più o meno refrattario chiaramente anche la chamotte secca lievemente l'argilla perché va a prendersi l'acqua che c'è nell'argilla quindi pian piano se non lo riusciamo a impastare possiamo aggiungere pochissima acqua alla volta una volta impastata la nostra argilla con la chamotte quello che notiamo è che ha perso un po' di plasticità e quindi se per esempio volessimo utilizzarla al tornio potremmo aggiungere un po' di caulino magari bolclea all'impasto per renderla appunto più plastica oppure la potremmo utilizzare così com'è magari per lavorare all'astre o a colombino mi raccomando andatevi a iscrivervi al canale altrimenti sapete quello che vi succederà sto scherzando chiaramente spero questo breve video sulla chamotte vi sia piaciuto è stato abbastanza semplice dobbiamo fare un poca attenzione appunto a maneggiare la chamotte che a volte potrebbe essere tagliente e una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che possiamo utilizzare cocci di qualsiasi tipo di argilla quindi bianca, nera, rossa quella che abbiamo come al solito se vi è piaciuto il video mettete un like, condividete, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video buona ceramica, ciao ciao cacchia, varie gran uno che può avere via che può che